Un operaio di 32 anni di Frosinone è rimasto ferito in maniera grave nell'esplosione eseguita a una fuga di acetilene avvenuta all'interno di uno degli impianti della Gima Water di Anani, società specializzata nella lavorazione e depurazione delle acque reflue. Il tecnico, secondo la prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, è stato investito dall'esplosione riportando ferite per le quali il personale sanitario del 118 intervenuto sul posto ha disposto l'immediato trasferimento in elicottero all'ospedale Umberto I di Roma. All'interno dello stabilimento sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Frosinone e gli ispettori del servizio prevenzione e sicurezza della ASL di Frosinone. Ci sono stati danni strutturali nello stabilimento, una parete è stata pesantemente danneggiata proprio in seguito all'esplosione.